ciao a tutti benvenuti a questo video oggi si parla del catalogo 4 scadenza alla fine del mese fine di novembre il 30 chiunque acquista dal catalogo 4 nella sezione black friday della solidarietà doneremo 5 per cento dei ricavi e tra questi c'è anche zero trattamento concentrato antirughe all'acido ialuronico puro poi vabbè chi acquista ogni prodotto acquistato nel catalogo abbiamo anche la renna il peluche musicale a 1999 io mi scuso i messaggi che arriveranno perché queste sono tutti notifiche dei vari programmi che ho e che se vuoi che faccio quindi andiamo tutti i regali in un unico posto che è regalo catalogo separato del regalo di natale alla confezione regalo in tre di tre tipi due sacchetti uno bianco uno nero la caramella molto simpatica poi c'è maxima icon 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 con la pagina microcapsulata per una donna vera che vuole diventare un'icona e poi leggiamo cosa c'è scritto sono rialzata per rivelare il mio vietore allora abbiamo vibranti note di mandarino luminoso fiore di bucaneve e indimenticabile accordo coiato chi acquista entrambi c'è anche lo spray da borsetta entrambi con questo codice a 27 poi c'è maxime icon anche per lui sempre con la pagina microcapsulata e qui invece abbiamo un cardamomo legno intenso d'olivo e prestigiosi accordi coiati o non avanti vabbè al solito chi lo acquista tutte e tre quindi novità non ce n'è altre perché questo è il maxima vecchio quindi essendo un prodotto novità insomma primo lancio un profumo catalogo a peco profumi poi c'è tutta la sfizia del far away compreso far away beyond il nostro nuovo e unico profumo per eccellenza tutta la saga far away ricordo che chi prova che usa i profumi può dovrebbe utilizzare anche gli odoranti di spray in borsetta eccetera le lozioni corpo per il semplice fatto che la fragranza si prolunga di più e quindi qui ci sono le lozioni poi c'è l'offerta 3 incandescence a 33 e 99 fizzate vediamo molto rosa morbido muschio aiuto pari scusate eccoli master per gli appassionati del make up con l'organizer sezione make up una nuova che le nuove tinte labbra con tutte le tonalità di power state che dura 10 ore no transfer e quindi lunga tenuta per di più a differenza di quell'altra non appiccicano e sono veramente leggi leggerissime non tappesantiscono le landra sono molto più forti di ciò che pensi infatti andiamo avanti così solo tonalità poi tutti i prodotti naturalmente power stay con il laner rossetti tinte labbra eccetera eccetera il linea era un tocco ultra preciso una linea molto precisa intensa e tutti i prodotti le power stay hanno una lunghissima durata quindi non li levi manco li cani l'unico modo per toglierli sono i prodotti oleosi per esempio uno struccante bifasico con una base di olio e acqua micellare o altrimenti ottimo clean break di distilleri che ne basta proprio una gocciola proprio poco 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 basta massaggiarselo poi un umidillo e poi si vede che porta via proprio il trucco in un attimo andiamo avanti qui spiega come portare sistemare le sopracciglia e dare più intensità stesse giornalità ma con nuovi nomi perché perché ora ha dato ha più facilitato appunto il nome del fondotinta ovvero qui c'è la spiegazione allora c'è uno gruppo non so se si legge tonalità più chiara il 2 da chiara media e il 3 da media e poi 4 media scura e il 5 scura poi 120 no 20 20 è la tonalità più alta e più alto il numero è più scuro nella tonalità n invece sono le lettere che ci servono per capire appunto qual è la nostra tonalità giusta allora r e rosa n neutro e di e g è dorato quindi qua c'è tutta la linea power 6 con i nuovi nomi poi c'è il rossetto un tagli muso io vado avanti perché qui ma qui c'è l'offerta 2 scelta 9 90 o per labbra che brillano abbiamo questo fantastico prodotto un lip gloss glace wear avanti che ha oltretutto come si dice idrata ci sono le varie i vari ombretti e sono particolari perché ci sono scritti numeri quindi 1234 basta seguire l'ordine e trucco è perfetto due a scelta c'è questo è il primer perché anche con i nostri ricicli hanno bisogno di di un primer di nostri occhi anche prima del mascara per poter aumentare il volume nella formula colore andiamo avanti questi sono mascara altri trucchi vado avanti questa è una novità se desideri sopracciglia più oltre decimite eccoci qua io ve lo ingrandisco sempre affidati perché c'è temperino nascosto nel tappo quindi non ruoti la punta basta ruotare tappe si appunto come si usa delle linea di sotto dell'arcata naturale traccia una linea sottile lungo la parte superiore dell'arcata definisci il bordo interno superiore inferiore del soffragiglia riempi l'arcata a tocchi brevi e leggeri anche perché chi non è ecco lo sapevo chi non è molto pratico basta mettere tocchi brevi e leggeri e più semplice queste sono tutte le tonalità di smalto 60 secondi di asciugatura 2 scelta 5 euro una cosa vi consiglio di parte la cura anche apre il pre quando mettete lo smalto dovete metterci anche il tocco per farlo prolungare un po di durata andiamo avanti e qui infatti c'è tutta la cura per le mani tonalità pastello per il bb cream le bb smalt diciamo vabbè 2 scelta al 7 90 tutti i primer tutte varie cose questo è un fondotinta che fa anche da cipre correttore un insieme fantastico tutte le terre solari per i contouring eccetera blush cremoso da poi sfumare si può sfumare tu bellino questo contenitore per i pennelli c'è la linea color trend che è quella più sbarazzina che costa anche meno ma non vuol dire che più scarsa anzi anzi molto buona poi graziosi design natalizie con le mini creme 2 a scelta a 4 euro e 99 95 cioè quelle emolliente con macadamia quella nutriente l'avocado ecco in la lenitiva ma andiamo alla cura del corpo anche qui c'è anche in modo di si può sentire il profumino andiamo avanti puro di cacao tutta la linea dice ma mani le creme mani chi compra al germani c'è chi compra una crema mani c'è al germani a 2 99 di odoranti del roll 48 ore eccoci tutta la linea per cellulite che previene ma non risolve il problema nel senso dovete fa sport nel frattempo dire tanto eccetera tutta la cura per i piedi ottimi cuscinetti plantari e io questo lo adoro un accessorio per i cure 3 in 1 perché è formato da tre parti c'è una rapa che la grattugia io lo chiamo pietra pomice e poi c'è la lima che è veramente fantastica queste altre linee per i piedi cioccolata e nocciola tutto il set con la pagina microcapsulata sempre per i piedi e abbiamo una formula totalmente idratante tra dita che donna 24 ore di idratazione abbiamo un tema trattante per i piedi maschera per i piedi e pediluvio rivitalizzante tutto a 7 99 tutte e tre poi essere cremosi essere idratanti abbiamo una doppiazione idratante di queste creme doccia con un cocco e il lampone oppure c'è quel latte d'avena e amido di mais oppure la crema una doccia latticella e cacao poi tutta la linea sensis con quello nuovo gingerbread scusatemi a solito tutti i costi si va bene poi abbiamo le linee di tutti gli spray a tutti i gusti possibili immaginabili fiori di magnolia eccetera eccetera e io d'estate mi ci diverto perché li metto in frigo e vi dà una sferzatissima di freschezza poi il profumo del natale e questo è un'altra novità e qui c'è lo spray profumato per il corpo e sono due a scelta a 4,50 euro berry cake è proprio cannella cioccolato more c'è un po' di tutto sa di natale proprio poi andiamo avanti tutti i pagno schiuma e anche qui c'è l'offerta due a scelta 8,90 il bagno schiuma natalizio apple pie che nel catalogo di natale è insieme a un set una pagina microcapsulata i sieri per capelli tra le altre cose quello all'argan a parte c'è una offerta due a scelta a 6,90 quella all'argan al centro serve anche per importare le ciglia quindi si passa alla cura dei capelli con le spazzole e vari tipi di shampoo eccetera ecco qui quello nourishment e nutrimento tutto all'argan tutti i sette oppure c'è per il colore oppure c'è per l'azione riparatrice dei capelli danneggiati oppure combatte l'effetto crespo poi c'è il natural il natural è fantastico però ne basta proprio poco 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 va saputo dosare la linea kids per i bimbi che non più lacrime pelle matte prova di effetto tutto il giorno rendi la pelle meno reattiva con tutta la linea su io uso molto l'acqua micellare non ci trovo veramente bene perché costa poco e poi ho un buon formato 400 millilitri lascia traspirare respirare la pelle con questa nuova linea un complesso ossigenante che aiuta l'epidermi da combattere l'inquinamento che cosa abbiamo abbiamo oxy più proprio ossigeno puro protegge dalla pelle dagli agenti inquinanti la crema al giorno maschera viso in schiuma che aiuta a rimuovere le tossine poi spray per il viso che incrementa l'idratazione dell'ottanta per cento il detergente ossigenante mousse che aiuta a struccarsi detergere rispettando la naturale barriera protettiva della pelle e il siero che dona alla pelle una piacevole prolungata sensazione di idratazione quindi una completissima routine poi c'è la linea clear skin questa è una novità che ha detto che la cura della pelle eccoci qua è una fascia per capelli andiamo avanti pure shine living e tutte questa è la linea distilleri di fuvi parlavo clean break tutti fantastici perché sono totalmente vegani non contengono acqua sono leggerissimi sono perché ce ne vuole poco e sono per pelli sensibili anche quindi questo si può scegliere una prima occhi e abbiamo il contorno occhi tutti i sieri abbiamo i siero e l'isira a due fasi altrimenti che contribuisce ad effettuare ad attivare tanti subiti dalla pelle quello vitamina c siero potenziatore della luminositanti e sedante non ti rende la pelle più più giovane luminosa poi l'azione trattante dual defense che migliora l'aspetto delle lentiggini del tempo e siero even texturing tone che agisce sulle macchie scure poi c'è il nuovo siero che nel giro di pochi giorni arricchito con protinolo ha vinto il premio edison 2021 per il brevetto appunto contiene protinolo e da sette benefici su sette segni del tempo cioè le linee sottile appaiono ridotte la pelle all'aspetto più compatto e più liscio la luminosità radiosa del viso e anche senza il make up i pori appaiono minimizzati la pelle si sente più forte e più elastica avanti la linea vabbè ultimate per la mieta 45 50 la linea platino per sessantenni e più avanti qui è la linea della cana passativa poi abbiamo la moda tutta la moda una cotonella che fantastica puro cotone 100 per cento leggins calzitoli che sono veramente leggeri poi ci sono reggiseni per la postura anche l'intimo gli accessori con le borse tutti gioielli il cerchietto non si chiama anche passata una volgente profumazione e questi sono formati diffusori candele o di profumati sacchette cera le profumazioni sono fresh cotton fresco e delicato con profumo della rocciata una mattina di primavera la venter blossom con la lavanda venitivo rasserenante e rilassante e poi vaniglia bean confortevole avvolgente e profuma lungo e wild berries croccante e legnose evocano le sensazioni di un bosco d'autunno e questi qui sono a bastoncino andiamo avanti io vado avanti perché purtroppo questi sono la linea del catalogo casa separato che si vedono lati romantici in catalogo casa tutti matrimoniali ora hanno iniziato alcuna piazza e mezzo è affare per fortuna tutti completamente made in italy se vengono come si dice seguite le istruzioni di lavaggio cioè durano una vita poi andiamo in cucina con tutti gli attrezzi da cucina tanti sono anche lavabili poi i prodotti nastrino della solidarietà ecco questa è la sezione dove viene donato 5 per cento dove vediamo questa pagina qui tutti i gioielli volo profumo di fragola questo è il set della fragola comprensivo di spray profumato detergente mani e crema doccia e bagna schiuma poi c'è make up di lusso gli esperti del camuflage perché grazie a questi correttori si tolgono tutte le imperfezioni possibili sono magici effettivamente soprattutto quello della power stay è fantastico perché dura lungo non si leva manco poi modo migliore per iniziare la giornata con questi bellissimi profumi sia per lei che per l'altra volta ecco e poi finita si ritorna alla canapa un altro set con una passativa che è per la pelle lenire la pelle stressata soprattutto per il fenomeno che ora si usa le mascherine per fenomeno maskne c'è un acne uno sfogo dovuto appunto alla all'uso della mascherina che fa produrre batteri sudore eccetera eccetera a me personalmente mi fa bruciare anche la gola e lacrima gli occhi però finito il video se vi è piaciuto mettete like vi auguro una buona serata divertitevi stasera ciao